Saludato Gesù Cristo versetto 8 e incominciamo entriamo nella seconda parte nella seconda parte che va dal versetto 9 al versetto 13 in cui Davide prega Dio di mondarlo da un male così grave qual è il peccato al versetto 9 tu mi aspergerai con l'issoppo e sarò mondato mi laverai e sarò più bianco della neve sono parole che conosciamo bene perché ogni domenica l'asperges diciamo queste parole qua precisamente asperges me domini sope mundabor lavabis me e super nivem de albabor l'issoppo è una pianticella una pianticella aromatica che ha dei fiori in forma di spiga spiga turchina le spighe o i rami riuniti in un mazzetto servivano come aspersorio per le lustrazioni sacre e nell'immolazione dell'agnello pasquale venivano infatti in tinte o nell'acqua lustrale o nel sangue della vittima e con esse si aspergeva il popolo o le cose che dovevano essere purificate purificate e qui davide chiede che la sua anima sia mondata purificata e questo può avvenire solo con l'infusione della grazia santificante e questo passaggio questo processo che la teologia cattolica chiama giustificazione il passaggio dallo stato di peccato allo stato di grazia mi laverai e sarò più bianco della neve il verbo ebraico significa l'avevamo già accennato un'azione energica una lavanda accompagnata da stropicciature battiture come ben sapevano le lavandaie di un tempo che non erano avezza ad usare l'acqua calda o i saponi potenti che abbiamo i nostri giorni dunque davide chiede dio non una qualunque abluzione ma una pulitura intima e profonda sia pure a costo di un trattamento energico e anche doloroso mi farai sentire siamo al versetto 10 mi farai sentire una parola di gaudio di letizia e le mie osse umiliate esulteranno qui il salmista prega che gli sia annunziato e concesso il perdono a sollievo della sua anima col rimprovero che natan gli aveva fatto tu sei quell'uomo ebbene dio aveva come spezzate fiaccate le ossa del peccatore che adesso prova un gran dolore una grande umiliazione al punto di non avere più pace non avere più sollievo fin tanto che non sentirà la parola del perdono una parola di gaudio e di letizia va e non peccare più dice gesù alla donna adultera figliolo ti sono rimessi i tuoi peccati ancora gesù che si rivolge al paralitico ego te absolvo io ti assolvo dice sacerdote al penitente e sempre è soltanto la stessa parola divina che purifica che risana questa parola di gaudio e di letizia versetto 11 rivolgi la tua faccia dei miei peccati qua davide sembra dire guarda da un'altra parte fa come se i miei peccati non esistessero non fossero mai esistiti fa che la loro vista non provochi la tua collera e tuo castigo nel libro di tobia al capitolo 3 leggiamo non ricordarti o signore dei miei delitti qua c'è evidentemente un quello che si chiama un antropomorfismo cioè si parla di dio come di un uomo cui si chiede di voltare altrove la faccia perché non veda un brutto spettacolo rivolgi la tua faccia dei miei peccati cancella tutte le mie iniquità si ripete ancora come al versetto 3 cancella la mia iniquità prima vedete nella prima parte di questo versetto 11 davide chiede a dio di distogliere lo sguardo ma qua va più in profondità dice che è necessario cancellare il peccato perché colui che distoglie lo sguardo per esempio distolgo lo sguardo da uno scritto ma posso in seguito tornare a guardarlo ma se lo scritto è cancellato allora non posso più leggerlo vedete in questo versetto c'è in quello successivo c'è la condanna della eretica dottrina della giustificazione secondo secondo lutero per la dottrina luterana la giustificazione questo passaggio che di cui vi parlavo che vi dicevo il passaggio dallo stato di peccato allo stato di grazia per la dottrina luterana la giustificazione è una non imputazione del peccato quasi appunto un soltanto un distogliere l'occhio da parte di dio ma il peccatore rimane quel che è profondamente macchiato nel profondo della sua anima questa non è la dottrina cattolica secondo la dottrina cattolica la giustificazione risana la grazia risana per davvero l'anima l'anima ritrova la bellezza originaria della grazia di dio quest'idea è ancora espressa nel versetto successivo versetto 12 o dio crea in me un cuore mondo e rinnova nelle mie viscere uno spirito retto crea qua c'è il verbo crea che significa propriamente fare dal nulla è l'azione propria di dio solo dio può creare e a questo verbo corrisponde il verbo rinnova crea in me un cuore mondo rinnova nelle mie viscere uno spirito retto quindi lascia si lascia comprendere che per mondare il cuore del peccatore confermarlo nel bene è necessaria la grazia che solo dio può produrre così come solo dio può creare anzi secondo sant'agostino il perdono di un solo peccato grave è una azione più grande che la creazione dal nulla di tutto il mondo crea in me un cuore mondo rinnova nelle mie viscere uno spirito retto nelle mie viscere e un ebraismo indica vuol dire nel più intimo del mio essere profondamente uno spirito retto uno spirito retto è lo spirito che non si piega al male e la parola ebraica andrebbe tradotta con uno spirito fermo stabile iremovibile che non si lascia vincere dalla tentazione versetto 13 non mi scacciare della tua presenza e non togliere da me il tuo santo spirito essere scacciato dalla presenza di dio dalla faccia di dio spesso nella sagra scrittura c'è questa espressione essere scacciato dalla faccia di dio è la cosa più terribile che possa accadere ad un'anima ed è questo appunto il timore più grande di davide non poter essere ammesso alla presenza di dio alla familiarità con dio ed è precisamente quello che la teologia chiama la pena del danno la pena del danno quella che più fa soffrire i dannati all'inferno quello di essere il fatto di essere separati da dio lontani da dio via da me maledetti nel fuoco eterno questa è la pena più grave dell'inferno non mi scacciare dalla tua presenza non togliere da me il tuo santo spirito il santo spirito qui si fa riferimento è lo spirito santo che scese su davide quando fu unto re per guidarlo nelle sue azioni eppure certo che davide come profeta ispirato era sotto una particolare provvidenza direzione di dio e adesso che è caduto nel peccato davide teme che dio gli ritiri questo suo spirito come aveva fatto per esempio con con saul il suo predecessore prima scelto da dio e poi riprovato da dio a causa della sua infedeltà alla grazia versetto 14 ridonami la gioia della tua salute e sostienimi con uno spirito generoso qui davide chiede umilmente a dio di ridargli la gioia che nasce dal perdono quella gioia che nasce dall'aver ritrovato la grazia di dio dall'aver ritrovato l'amicizia con dio col peccato si perde questa amicizia col peccato grave si perde l'amicizia con dio e si perde la pace si perde la tranquillità della coscienza si perde la possibilità di godere della vera gioia già il rimorso del peccato il rimorso che il peccatore prova è già un effetto del peccato è già un castigo è già un castigo di dio ridonami la gioia della tua salute e sostienimi con uno spirito generoso in latino generoso è tradotto è volto con la parola principale con uno spirito principale quindi lo si intende nel senso di uno spirito degno di un principe uno spirito principesco si potrebbe dire e lo si può riferire anche allo spirito santo il quale è veramente il principe di ogni spirito generoso munificentissimo ridonami la gioia della tua salute sostienimi con uno spirito generoso entriamo nella terza parte del salmo 50 che va dal versetto 15 fino alla fine e in questa terza parte per indurre maggiormente dio a perdonarlo davide gli espone quanto ha intenzione di fare per la sua gloria versetto 15 insegnerò agli iniqui le tue vie e gli empi si convertiranno a te sappiamo come i grandi convertiti quelli che sono passati dall'abiezione alla grazia sono quelli che più di più di ogni altro zelano per la salvezza dei propri fratelli che sono ancora nel peccato e questo zelo è precisamente uno dei segni della vera contrazione della vera conversione il segno di aver veramente cambiato strada e quindi avere questa direi angoscia santa angoscia nel vedere i propri fratelli che sono sulla strada sbagliata e quindi questo desiderio imperioso di distruggere il peccato e non gli basta averlo distrutto in se stessi ma vogliono distruggerlo anche negli altri e in questo modo vogliono riparare anche lo scandalo dato al prossimo insegnerò agli iniqui le tue vie e gli empi si convertiranno a te versetto 16 liberami del reato del sangue o dio o dio della mia salute e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia liberami del reato del sangue in ebraico e anche in latino è messo il plurale i sangui sanguinibus Davide chiede perdono per aver sparso del sangue più sangui se possiamo dire così il sangue di Uria mandato a morte il sangue di quei soldati a Rabbat Ammon che sono che sono morti e nella Sacra Scrittura si dice che il sangue ingiustamente versato grida vendetto presso Dio contro l'omicida pensiamo a queste terribili parole dette da Dio dopo il primo omicidio le parole dette a Caino la voce del sangue del tuo fratello Abele grida dalla terra fino a me così nel libro della Genesi il capitolo quarto liberimi dal reato del sangue o Dio della mia salute e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia promette quindi lodi ringraziamenti la tua giustizia questa giustizia misericordiosa e fedele nelle sue promesse versetto versetto 17 Signore tu aprirai le mie labbra e la mia bocca annunzierà le tue lodi tu aprirai le mie labbra le labbra rese chiuse dal peccato saranno dischiuse aperte dal perdono e allora la bocca celebrerà di nuovo le lodi del Signore anche qua si può constatare come tante persone dopo essere cadute nel peccato smettono ulteriormente se si può dire così smettono definitivamente di pregare e solo dopo la confessione ritrovano la gioia della preghiera il gusto della preghiera Signore tu aprirai le mie labbra e la mia bocca annunzierà le tue lodi versetto 18 poiché se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei offerto ma tu non ti compiaci degli olocausti versetto 19 sacrificio a Dio uno spirito contrito tu o mio Dio non disprezzerai un cuore contrito umiliato due versetti li leggiamo li commentiamo insieme se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei offerto ma tu non ti compiaci degli olocausti i sacrifici non piacciono a Dio di per se stessi ma unicamente per le buone disposizioni del cuore che li accompagnano ci riferiamo qua ai sacrifici che venivano offerti nel tempio tu non ti compiaci nel sacrificio nella materialità per dire così del sacrificio in un altro salmo quello precedente nel 49 si dice che Dio non si diletta della materialità delle vittime Dio non se ne fa nulla dei capri degli agnelli il sacrificio che soprattutto Dio comanda è la disposizione dell'anima la disposizione interna dell'anima e questa è l'idea che Davide esprime perché se tu avessi voluto un sacrificio l'avrei offerto ma tu non ti compiace degli olocausti il sacrificio Dio è uno spirito contrito Davide sa che pur essendovi vari tipi di sacrifici vi erano vari tipi di sacrifici che si offrivano in espiazione di vari tipi di peccati ogni peccato corrispondeva un tipo diverso di sacrificio che veniva offerto dai sacerdoti ma per l'omicidio dell'adultero non esisteva un sacrificio da offrire l'omicidio dell'adultero veniva messo a morte non vi era un sacrificio corrispondente da offrirsi a Dio e perciò Davide poteva dire che Dio non si placa con dei sacrifici offerti per questi delitti nel suo caso dunque Davide non aveva altro mezzo che ricorrere alla misericordia di Dio con fiducia e pregarlo di accettare in luogo di un sacrificio materiale un sacrificio espiatorio materiale accettare il sacrificio spirituale di un cuore contrito cioè affranto del malefatto risoluto a cambiare vita davanti a questa disposizione profonda del cuore davanti all'abisso della miseria in cui Davide era caduto e Davide è il tipo e la figura del peccatore ebbene Dio risponde con un altro abisso quello della sua misericordia abissus abissum invocat l'abisso del peccato chiama l'abisso della misericordia il salmo 41 arriviamo agli ultimi due versetti gli ultimi due versetti che sembrano essere un'aggiunta un'aggiunta liturgica posteriore a Davide del tempo dell'esilio o del tempo di Esdra e Neemia l'aggiunta è dovuta ad un autore ispirato che l'introdusse quando questo salmo 50 divenne il salmo della penitenza non soltanto individuale ma di tutto il popolo versetto 20 nel tuo buon volero signore fa del bene a Sion affinché siano edificate le mura di Gerusalemme versetto 21 allora gradirai il sacrificio di giustizia l'oblazione gli olocausti allora si porteranno dei vitelli sui tuoi altari quindi riferito in questo senso come aggiunta posteriore è il popolo e il popolo deportato a Babilonia che sentiva vivo il desiderio di ricostruire il tempio finché siano edificate le mura di Gerusalemme questo tempio che era stato abbattuto da Dabuco Donosor e restaurare il culto a Gerusalemme tuttavia nella logica del testo ispirato questi due ultimi versetti il 20 e il 21 sono si può dire l'ultimo argomento che Davide usa per placare Dio e ottenere la perfetta giustificazione la riparazione dei suoi peccati così come al presente il suo peccato ha nuociuto al suo popolo la sua riparazione gioverà a tutto il popolo e in modo particolare alla santa città di Gerusalemme di cui Davide è il capo cioè le mura di Gerusalemme distrutte sono l'immagine della sua caduta della sua caduta spirituale del suo peccato le mura sono Davide stesso che come un muro proteggeva e difendeva il suo popolo il re e il muro colui che protegge che difende il suo popolo e troviamo la stessa metafora applicata a Cristo re salvator ponete urinea murus et antemurale il salvatore ha posto in essa il muro e l'antemurale una doppia cinta di mura murum et antemurale o ancora leggiamo in Geremia dabote populo uic in murum eneum ti stabilirò al cospetto di questo popolo come un incrollabile muro di bronzo e solo quando Davide avrà ricevuto pienamente il perdono allora allora Dio gradirà le oblazioni e gli olocausti e allora si porteranno dei vitelli sui tuoi altari vedete in queste parole si anticipa in un certo qual modo quel culto a Dio in spirito e verità di cui Gesù parla parlerà alla samaritana proprio parlando della grazia o ancora queste parole del maestro io voglio misericordia non sacrificio perché non sono venuto a chiamare i giusti i miei peccatori la citazione qua che Gesù fa in Matteo 9 è di Osea del profeta Osea capitolo 6 e significa che Dio vuole sì un culto esteriore ma solo nella misura in cui questo culto esteriore è accompagnato da un cuore puro cioè un cuore vivificato della grazia vivificato dalla carità soprannaturale il contrario è quello che Gesù stigmatizzava molto severamente era l'atteggiamento dei farisei che si limitavano ad un culto puramente esteriore sacrificio di giustizia dice il testo allora gradirai sacrificio di giustizia è il sacrificio legittimo quello prescritto dalla legge oblazioni e olocausti sono due parole per indicare la stessa realtà cioè l'oblazione e l'olocausto erano questi sacrifici che comprendevano necessitavano della distruzione totale della vittima sul fuoco e allora si porteranno dei vitelli sui tuoi altari e quello dei vitelli era il sacrificio più importante più prezioso figura delle opere perfette di giustizia offerte al Signore sull'altare del proprio cuore come dice San Pietro nella sua prima lettera accostatevi a lui per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo offerre spirituale sostias accettabile per Gesù Cristo Ecco allora in conclusione Miserere mei Deus Abbi pietà di me Signore Manteniamo in noi questa disposizione di cuore che porta dei frutti infinitamente preziosi conserviamola fedelmente questa disposizione di dolore di pentimento perché perché è ciò che assicura stabilità alla nostra vita spirituale è quella che assicura la perseveranza nel bene riprendo qua ancora da Don Jean de Montléon in un libro che si chiama I dodici gradi di umiltà la compunzione ricordo la compunzione è la contrizione abituale delle nostre colpe è un atto di dolore continuato la compunzione per l'anima ciò che l'umidità è per la terra è impossibile veder germogliare il minimo frutto spirituale il minimo rampollo di virtù in un cuore che l'ignora allo stesso modo che è impossibile far spuntare la più piccola pianta in un terreno senza acqua anche i sei semi sono eccellenti e coltivati con gran cura le esortazioni più penetranti i libri più persuasivi gli esempi più commoventi resteranno inefficaci su un cuore senza contrizione ed esso rimarrà secco e sterile fino a quando non sarà ammollito e reso permeabile dal sentimento della sua miseria non bisogna cercare altrove la causa della mediocrità spirituale in cui vivono tante anime che pure manifestano un grande zelo per le opere di pietà ascoltano prediche si accostano i sacramenti e moltiplicano i pellegrinaggi esse non attendono a piangere i loro peccati questa è la ragione per cui non cavano a profitto da nessuna cosa e termino con una citazione di una grande maestra dello spirito che è santa teresa d'avila che mette in guardia mette in guardia contro una falsa umiltà che non viene da dio mi sembra che queste parole della grande santa teresa mi sembrano essere veramente la conclusione di questo bel salmo della penitenza che invece illustra meraviglia la profonda disposizione dell'animo del re davide che è l'umiltà l'umiltà la santa fa questa considerazione alle volte il sentimento della propria miseria può darsi che sia vera umiltà mentre altre volte tentazione gravissima quindi come si fa a distinguere e continua santa teresa per profonda che sia la vera umiltà non inquieta mai non agita non disturba ma inonda l'anima di pace di suavità e di riposo la vista della nostra miseria ci mostra che meritiamo l'inferno ci riempie l'anima di afflizione ci toglie quasi il coraggio di domandare misericordia ma se c'è vera umiltà questa pena è temperata da tanta pace e dolcezza da desiderare di non andarne mai privi non solo non inquieta e non stringe l'anima ma la dirà la dilata e la rende più abile a servire il dio mentre l'umiltà del demonio disturba scompiglia mette tutto sotto sopra ed è molto penosa ecco mi sembra che queste parole illustrino benissimo il salmo 50 davide appunto è mosso dalla vera umiltà e questa vera umiltà gli gli fa vedere il male vero della sua anima le piaghe della sua anima gli fa vedere che il peccato gli ha meritato l'inferno lo fa piangere ma Davide è umile e non si inquieta la sua anima si dilata si dilata e la rende capace di grandi cose la rende capace di servire dio fedelmente ecco su questo ci fermiamo grazie dell'ascolto se lo dato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti